Grazie Antonio e da Augusto per l'InnoLab in generale di Marco Cialdone che ci permette di vederci costantemente e di aggiornarci sull'evoluzione tecnologica. Devo dire che l'importanza dell'Agicom e della regolazione in generale dei servizi di comunicazione nell'ultimo anno e mezzo è stata disruptive e molto costruttiva e ha permesso ad aziende innovative come Huawei di affacciarci e di innovare meglio nel mercato italiano con più rapidità. Il 5G perché è particolarmente innovativo? Lo è come tecnologia perché per la prima volta supera, come già anticipava Antonio Citta prima, le distanze, le differenze allo stesso tempo tra comunicazioni fisse e comunicazioni mobili. La fibra diventa determinante nel trasporto della rete e la rete allo stesso tempo si apre all'ecosistema che possono essere le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione, le aziende più o meno grandi e le università. Col concetto di slicing e slice la rete viene sostanzialmente aperta a tutti e al contributo. C'era stato negli ultimi dieci anni con l'evolversi degli OTT, quindi delle applicazioni a livello più alto della pila OSI di comunicazione, una sorta di dicotemia di separazione tra il livello applicativo e la parte infrastrutturale della rete. Quindi chi produceva applicazioni con l'avvento e l'evolversi degli smartphone costruiva delle applicazioni sopra un'infrastruttura di rete che si evolveva in modo indipendente. Il 5G fa sì che la parte applicativa possa intervenire direttamente nella modifica e nella costruzione della rete. Ciascun nuovo servizio avrà una slice dedicata, una slice di servizio e questa è la vera innovazione del 5G. Ovviamente in questo contesto una regolazione e regolamentazione così dedicata come sta avvenendo in Italia aiuta. Non a caso l'Italia è stata da fanalino di coda negli ultimi 5-10 anni del mercato europeo, negli ultimi anni invece ha visto nascere in Italia i primi trial 5G di tutta Europa. Ci sono stati tre trial che hanno visto i principali operatori da Atim, Vodafone, Winde coinvolti in tutta Italia, in tre aree diverse e devo dire con orgoglio che Huawei in due di questi tre trial organizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, quello con Vodafone a Milano e quello con Team a Bari e Matera, ha avuto una parte importante e determinante. Abbiamo con circa più di 10 famiglie di macro servizi e 70 use case casi d'uso, dalla Smart Industry alla Smart Agriculture, allo Smart Port a Bari, abbiamo creato e incentivato insieme al Ministero dello Sviluppo Economico un ecosistema ampio aiutati sia dalla regolazione, l'Agicom che dalla politica per riuscire a dialogare meglio con le piccole e medie imprese, con l'ecosistema italiano, con le università, penso ai bui tecnici, che adesso sono sempre più nello sviluppo infrastrutturale del 5G, che vista la nuova modalità del 5G come tecnologia e come ecosistema stanno avendo un'importanza, direi, costruttiva e disruptive allo stesso tempo. Huawei come multinazionale sta dando molta attenzione in questo momento, avete visto anche gli scambi e i dialoghi a livello internazionale sul tema della sicurezza, perché l'apertura della rete così imponente e importante all'ecosistema, parlo di quello italiano, ma poi ogni paese può avere il suo, permette e richiede una maggiore attenzione ai temi di sicurezza, di cyber security. Huawei è stata la prima azienda ad aprire un lab aperto di cyber security a Bruxelles, invito tutti gli stakeholder qui presenti a visitarlo, Antonio penso che ce l'abbia in programma, di farlo a breve. Adesso cercheremo di dare un contributo anche alla politica, al ministro dello sviluppo economico, ai vari stakeholder coinvolti per fare altrettanto con gli operatori e dare attenzione alla sicurezza anche in Italia. Lo standard 5G sulla rete di accesso garantisce per gli algoritmi che criptano il segnale uno standard più sicuro garantito dai protocolli del GDP della rete di accesso, di standard, sulla parte di accesso. Però sulla parte core, dove c'è il tema e la tematica degli oslicing, ci deve essere attenzione ai temi della cyber security e della sicurezza in generale, parlerei di risk management. Questo tema si intreccia ovviamente con il tema regolatorio in corso, ma deve essere visto in modo positivo perché da impulso all'innovazione. Da impulso all'innovazione perché i laboratori che nasceranno, quelli a cielo aperto, lo stiamo già facendo sia a Milano che a Bari e Matera per i trial impulso col ministero, garantiscono e garantiranno dei livelli di sicurezza ancora maggiore per la privacy degli utenti e altri ne nasceranno. È importante quindi che per ciascun servizio e per ciascuna oslicing venga garantito a chi costruisce il servizio stesso una sicurezza adeguata allo standard di qualità richiesto sia dalla rete ma soprattutto dai servizi. Un altro elemento infatti imponente e importante nel 5G è l'avvicinamento sempre di più della rete ai servizi. Quindi il servizio richiederà dei requisiti alla rete e la rete dovrà adeguarsi e questo è garantito dai protocolli di comunicazione 5G. È importante in questo un investimento forte sul tema dell'innovazione. Huawei lo sta facendo tant'è che investe in ogni paese del mondo circa una percentuale a due cifre del proprio fatturato sui temi di innovazione. Spero che questa panoramica sia stata introduttiva sia alle relazioni sia agli altri. Mi scuso per questo anticipo dovuto a un impegno successivo che ho.